Ma quella percepita dai ragazzi va in un'altra direzione, ed è di questo che dobbiamo tener conto. Quale lezione trarne, quindi? Intanto il lavoro educativo della scuola è fondamentale, è uno dei pochi luoghi dove si parla di mafia, meno in famiglia, molto meno in società. Ma non può essere svuotata con procedure formalistiche e ripetitive sulla legalità. Questo aspetto del lavoro educativo va vissuto assieme ai ragazzi e alle loro famiglie, per incidere poi nella realtà concreta. Noi siamo contrari, infatti, all'istituzione dell'ora scolastica della legalità, che diventerebbe un rituale vuoto e formale. Ho dei corsi di laurea specifica sulla mafia, quindi facciamo i mafiologi che discutono solo di mafia. Perché non si capirebbe bene come invece poi questo processo che deve essere appunto trasparente e deve intrecciarsi con tutti gli aspetti sociali, culturali della nostra vita, possa essere affidato soltanto ad alcuni che diventerebbero esperti. Tutti i processi educativi devono essere improntati al rispetto delle regole. E quindi di quelle regole che, se non sono rispettate nella società, a scuola sembrano contraddittorie a quanto affermato nella scuola. E' la difficoltà che poi hanno i docenti impegnati in questo settore. Sapendo che poi tutti, l'ingegnere, così come il medico, lo storico o il sociologo, debbano uscire all'università con la consapevolezza e l'importanza del fenomeno, perché lo possa riconoscere quando opererà nel mondo reale e produttivo. E ma deve trovare appunto una società, una famiglia e una società con uno sviluppo che affermi ogni giorno la repulsione della illegalità. Quindi la scuola e l'università devono infermare i propri programmi a questa fondamentale esigenza per difendere il futuro democratico del Paese, di un Paese senza mafie. Noi continueremo a fare la nostra parte, cogliendo tutte le osservazioni critiche che ci vengono fatte per migliorare il nostro lavoro educativo, di supporto alle scuole, continuando a ricercare energie volontarie e motivate per contribuire alla modernizzazione della società e del nostro Paese. E' in questa direzione che vanno i bandi che stiamo pubblicando per impegnare dei ricercatori e approfondire il tema, ad esempio, della complessità della mafia. Creeremo un osservatorio mafia-economia, sulla base appunto dei giovani economisti e statistici che potremo impegnare, per monitorare la dinamica interna del fenomeno del rapporto tra mafia ed economia, per capire da dove provengono volta a volta i proventi illeciti della mafia. L'altro aspetto che monitoreremo sarebbero i beni confiscati e soprattutto l'impatto ambientale di questi beni confiscati. E se dai dati disponibili attraverso quelli pubblicati all'Agenzia del Demanio sovrapponiamo e la carta delle varie famiglie mafiose, sarebbe interessante capire quali sono stati in essi tra queste cose, i beni confiscati e il rapporto con la pubblica amministrazione che ha autorizzato anche non solo quelle costruzioni, quegli edifici, quelle attività in quelle aree. Vedremo cosa verrà fuori naturalmente, però questo sarà il nostro contributo per arricchire la conoscenza e l'approfondimento del fenomeno, soprattutto appunto della complessità, cioè dei mille fili che legano la mafia alla società, all'economia e alla politica. E questo è l'altro tema. La mafia, politica, società, è il tema che deve essere sempre monitorato, osservato profondamente per far capire che non è una questione che riguarda la Sicilia, la Campania, la Calambria o la Puglia, ma è una questione che riguarda il Paese e in era di globalizzazione riguarda non soltanto il nostro Paese. Ciò naturalmente non assolve né indebolisce le nostre responsabilità nel contrasto alla mafia. Il messaggio ai partiti poi è estremamente chiaro. Non occorrono, questo ci dicono i ragazzi, singoli personaggi immediaticamente antimafia. Occorrono estesi movimenti di massa, concreti, che sostengano concrete proposte di lotta politica e di soluzione legislativa, come ha fatto Pio Latorre nel suo contesto storico e nel suo contesto politico. Infine occorre un forte impegno etico che faccia vivere la politica come servizio e non come ascesa sociale verso una casta che viene rifiutata dalla gente almeno più motivata. In tal senso credo che vada ribadito quanto già è stato detto in altra occasione. Uomini politici come Piersanti Mattarella, Demo Cristiano, Moroteo, ucciso alla mafia nell'80. Piola Torre, segretario del PC siciliano, riformista antelittara, ucciso nell'82. Assieme a tutte le vittime illustre, senza dimenticarne alcuna, e meno illustre, ad opera della mafia, non solo vanno ricordate, ma dovrebbero far parte del pantheon di ogni forza politica che vuole essere coerentemente antimafioso. Ecco perché, concludo, ci siamo fortemente indignati quando il futuro Premier, insieme al suo sodale, ha eletto ad eroi lo stalliere di Arcore, il mafioso Mangano della cosca di Porta Nuova di Palermo. Per noi gli eroi rimangono gli altri, i diversi, quelli che hanno saputo parlare al cuore e alla ragione dei siciliani e dei cittadini del Paese. Le vittime innocenti della mafia, dai capi lega e dei dirigenti politici alla lotta per la riforma agraria, agli uomini dello Stato caduti nell'esercizio del loro dovere, poliziotti, carabinieri, magistrati come Terranova, Costa, Chinnici, Falcone, Borsellino, Livatino e via del serio. Agli imprenditori come Libero Grassi, ai dirigenti politici come Mattarella e La Torre. Questi sono gli eroi, non solitari, ma punti emergenti di profondi movimenti di massa e di opinioni che hanno contribuito a realizzare, costruire e difendere la democrazia del nostro Paese, ad esaltare le libertà individuali e di mercato, anche in era di globalizzazione, a mantenere fermo l'obiettivo di liberare dalle mafie per sempre la nostra terra. Il messaggio di lotta e di speranza, di impegno civile e politico, è confermato dalla vostra presenza e dal vostro impegno, del quale vi ringraziamo di cuore.